Ciao a tutti, buongiorno ed eccoci nuovamente per osare essere immensi dal salotto di Ida. Oggi vi volevo parlare della guerra, un argomento molto attuale in questo momento. Un giorno mentre mi trovavo a Limone sul Garda e stavo facendo una passeggiata per far conoscere le erbe perché quell'anno lì avevo deciso di fare delle passeggiate lungo tutto il parco dell'Alto Garda e quindi mi trovavo a Limone, a volte c'erano delle persone, a volte c'era nessuno. Quel giorno lì c'era una signora e mentre stavamo parlando questa signora mi racconta che stava facendo una guerra alla sua nuora perché non le piaceva nonostante che a suo figlio con questa nuora andava d'accordo ed erano una bella coppia. E nello stesso momento nel mondo c'era la guerra nella Jugoslavia, nella ex Jugoslavia e io avevo questa domanda Cos'è che fa sì che là a 50 chilometri da noi perché diciamo in linea d'aria a volte c'è la distanza di 50 chilometri dalla ex Jugoslavia Cos'è che fa sì che là ci sia la guerra e che qui invece noi non c'è. E nel momento in cui questa signora stava parlando mi è arrivata la risposta La loro la guerra la agivano. Noi qui la guerra la facevamo a suon di maldicenze, a suon di non volere una cosa, a suon di avvocati E quindi noi ce la cavavamo diciamo non mettendo in azione questa energia di guerra che comunque era partita C'è chi c'è la su col vicino perché c'è il gallo, c'è chi c'è su col vicino perché c'è il gatto, il cane Quindi molti di noi, io comprese, mettiamo in atto questa energia di guerra che poi magari regoliamo diciamo altrimenti Ma questa energia una volta che è partita deve essere espressa E la guerra peggiore che noi facciamo è la guerra verso noi stessi La guerra verso le parti di noi che non ci piacciono, che poi si manifesta all'esterno Perché come sappiamo molti di noi all'esterno non c'è niente, è tutto dentro di noi Quindi l'esterno non è altro che il riflesso della nostra realtà che noi viviamo all'interno Allora la mia proposta è quella di lavorare su questa guerra interna che noi abbiamo Attraverso delle modalità per cui possiamo accettare tutte le parti che noi siamo Ho preparato un atelier che partirà sabato prossimo dalle 2 alle 4 E che sarà su Zoom, per chi è interessato metterò sotto le informazioni Buona giornata